Se le 5 stelle con Di Battista che attacca i DEM, vengono in piazza e poi fanno come dice Renzi. Renzi è il premier della paura, ha paura che i cittadini eleggano il senato, ha paura che i cittadini eleggano la camera, ha paura di docenti e studenti che possono mettere bocca su queste riforme.